buongiorno ragazzi vi ripropongo un ripassone sull'impressionismo facciamo giusto i punti chiave per ripassare sia per coloro che devono ancora fare la verifica ho messo comunque del materiale anche scritto su didattica sia per chi invece ha bisogno poi di recuperarla la verifica allora intanto il movimento impressionista nasce a parigi viene conosciuto dal grande pubblico ve lo ricordo nel 1874 con l'esposizione tenuta grazie al fotografo nadar che aveva ospitato queste opere considerate all'epoca troppo all'avanguardia e un po' scandalose e invece molto in linea con quello che erano le scoperte tecniche dell'epoca perché per esempio la macchina fotografica fu un'invenzione che influenzò tantissimo la pittura degli impressionisti tanto è vero che se solo pensiamo ad edgar dega alla classe di danza con le sue ballerine e il taglio è sicuramente di tipo fotografico quindi c'è un'inquadratura spesso non centrale ma presa di scorcio come se si facesse una fotografia quasi anche alle spalle delle protagoniste stesse della classe di danza ma poi lo vediamo insieme vi volevo ricordare giusto alcuni punti intanto di sottofondo vi ho messo claude monet impressione sole nascente che è il quadro che ha dato proprio il nome all'opera stessa ora ve ne propongo altre andando avanti su sui punti chiave della dell'opera queste qua invece sono le ninfee le ninfee blu sono state un ciclo di tantissime di tantissime opere ve ne seleziono alcune anche queste qua quindi non è solo un quadro unico al mondo ma ne aveva fatte veramente tantissime ovviamente per dipingerle si era recato monè vi ricordo che è monè dal vivo a dipingerle e quindi si parla di pittura en plein air pittura all'aria aperta cioè dipingere proprio portandosi dietro il cavalletto e i tubetti di pittura che sono proprio stati diciamo utilizzati e inventati in quell'epoca lì andando all'aria aperta e questo vi ricordo è il ciclo di pitture di monè ninfee blu allora qua come vi spiegavo un attimo fa c'è Degas Edgar Degas che dipingeva appunto gli scorci quasi fotografici sembrano fotografie di ballerine prese di spalle il folie della danza c'è la classe di danza e vi ricordo più che altro dei punti dei punti importanti da memorizzare allora quanto dura l'impressionismo dura circa vent'anni e deriva dal realismo e ricordo che è nato in Francia altre cose principali che cosa rappresenta la tecnica impressionista rappresenta la realtà sensibile quindi la cattura della luce dell'acqua del movimento e della luce fuggevole che loro vogliono catturare e dipingere direttamente su tela per questo c'è la necessità di uscire all'aria aperta e non in un atelier la tecnica usata abbiamo detto più che altro è l'olio su tela la tecnica è in plein air olio su tela cosa diventa l'impressionismo diventa il simbolo della dolce vita parigina quindi si abbandona quello che era più che altro il concetto del realismo cioè di rappresentare la vita del ceto più povero la denuncia sociale della classe contadina che lavorava si spezzava la schiena nei campi che viaggiava in terza classe nei vagoni in terza classe vi ricordo onore da omier mille tutti quei pittori che hanno rappresentato e denunciato la vita di questi poveri contadini visti quasi come degli eroi per la fatica che dovevano vivere ogni giorno mentre con l'impressionismo si ci gode un pochino più la vita quindi vengono rappresentati teatri sale da ballo il balletto le opere che rappresenta anche renoir mi vengono in mente tutti i quadri di di renoir o la colazione sull'erba di edouard mané quindi adesso vi sottopongo altre immagini attendetemi un attimo allora questo qua ve lo ricordate ragazzi la cameriera con lo sguardo quasi a suo fatto stanca del del lavoro il bar della foyer berger con di edouard mané quindi l'autore in questo caso vuole rappresentare la vita di una cameriera che al banco che serve da bere qua nell'angolo c'è il cliente riflesso che attende da bere con una specchiera sul retro che rappresenta tutto il chiasso e la frequentazione di questo bar si perde anche nei particolari amava introdurre questi particolari dei mandarini nei suoi quadri o delle bottiglie sia di champagne che l'avevo detto in classe di questa bottiglia di birra con la targhetta triangolare che era appunto una perché metteva questi elementi li metteva per rendere ancora più reale e contemporaneo il quadro proprio inserendo degli elementi anche di altre nazioni la birra per esempio inglese lo champagne parigino e così andare poi vi ricordo le degenere sull'erba la colazione sull'erba edouard mané vi sono ritratti due ragazzi e due ragazze che fanno un picnic sullo sfondo di un bosco viene molto criticato per ovvi motivi perché le due fanciulle non erano abbigliate e anche dal punto di vista tecnico del disegno e dell'organizzazione proprio visiva perché la donna qua in primo piano aveva una campitura campitura cosa vuol dire la distesa del colore quando proprio si dipinge fisicamente col pennello e si stende il colore si dice campitura c'è il riempimento del colore e aveva una campitura molto piatta quasi un po bidimensionale non c'era una grande cura di tipo accademico del disegno con il chiaroscuro sullo sfondo altra critica dal punto di vista tecnico la donna che si infresca che china in fondo anche lei non perfettamente in ordine con l'abbigliamento ha uno sfondo con un'assenza prospettica quindi non c'è profondità in questo bosco e quindi venne criticato anche per questo motivo vi ricordo appunto questo è edouard mané questo qua invece è il ballo della galette renouard quindi anche qua c'è tutto un gioco di ombre e luci che è il discorso che vi facevo prima le pennellate seguono un andamento molto morbido non c'è una costruzione metodica e perfetta del della pittura ma sono pennellate veloci con una pittura abbastanza grassa olio grassa vuol dire data con un certo spessore proprio per realizzare vedete qua ombre luci sembra quasi che corrono sulle superfici di questi personaggi questo è renouard queste sono le ballerine di edgar de ga nella sua ultima fase della vita quando ebbe dei problemi economici viveva grazie alla rappresentazione di questi quadri di quelli ballerine che poi vendeva questo qua è l'assenzio abbiamo detto tante volte in classe la denuncia anche dell'aspetto più triste della mondanità della vita della dolce vita parigina perché con questo alcol molte persone si riducevano così e quindi vuole anche denunciare l'aspetto meno allegro meno mondano della vita parigina questa è una carrellata dei quadri che ho selezionato per voi vedete non vi ho messo per un discorso di praticità ma sono sicura che ve lo ricordate il quadro di geor siro quello del della domenica di pomeriggio quello fatto con i puntini quindi dopo l'impressionismo vi ricordo che nasce il post impressionismo dura solamente dieci anni nasce sempre in francia praticamente questa corrente artistica si può anche dire che non sia proprio una corrente artistica anzi non venne quasi giudicata come corrente artistica perché perché si occupa di ricercare scientificamente la scomposizione della luce attraverso puntini non pennellate puntini i quadri di questi post impressionisti come geor siro sono apprezzabili alla giusta distanza assolutamente non da vicino viene mal di testa guardarli da vicino perché sono tanti puntini di colori che sembrano quasi messi a caso ma assolutamente vi assicuro che ve l'avevo anche fatto vedere prendono il loro senso se visti alla giusta distanza per ora è tutto abbiamo fatto il ripasso ve lo metto anche su didattica con con i punti principali ci sentiamo poi per le prossime lezioni saluti a tutti